Vedi, loro le scendono così, si snippano tutto il giorno a sto profumo. Queste a Cuba ad esempio non le abbiamo visto, le abbiamo visto già a lavoro con questo. Mi ha detto che non si è riuscita a fare l'impasto. Come si è riuscita a fare l'impasto? Come si è riuscita a fare l'impasto? Come si è riuscita a fare l'impasto? Grazie.